E' da diversi giorni che nella Locride si denunciano casi di soggetti che con il pretesto di essere tecnici Enel o comunque mandatari Enel chiedono di entrare nelle abitazioni per rilevare il numero di contatore. Contattata l'azienda erogatrice di corrente elettrica dalla nostra redazione, smentisce che i propri dipendenti siano proposti a raccogliere letture di contatori, tant'è che ormai i dati vengono trasmessi solo in formato elettronico. La sequela di episodi si è verificata in diversi centri della Locride, tra cui Siderno, Locri, Marina di Gioiosa e in ultimo ieri mattina a Roccella Ionica. Anche se ancora non esista una formale denuncia fatta alle forze dell'ordine, i carabinieri della stazione di Roccella Ionica stanno investigando e proprio ieri pomeriggio avrebbero identificato un soggetto sospetto, somigliante tra l'altro alle fotografie circolanti sui social che sono state scattate da persone che avrebbero denunciato il tentativo di ingresso nella propria abitazione. Per tale motivo, chiunque abbia subito qualunque violazione dovrebbe contattare la stazione di carabinieri di Roccella Ionica al numero 0964 863212 e denunciare l'accaduto ed eventualmente riconoscere il soggetto che si è reso autore del delitto. In questo modo ovviamente non sarà vano il lavoro che le forze dell'ordine stanno compiendo. E intanto è stato rilasciato dalla stazione dei carabinieri di Roccella l'uomo dopo diversi accertamenti identificato proprio la mattina e sospettato anche perché somigliante, come dicevamo, alle fotografie circolate sui social. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo di cui ovviamente non rendiamo note le generalità, lavora realmente per conto dell'Enel, sarebbe un procacciatore d'affari, con una società che fornisce ovviamente erogazione elettrica. Non essendo giunte al momento né denunce formali né sono emersi o denunciati reati, è possibile che tutto l'allarmismo sia stato frutto di catene di Sant'Antonio dei social o Whatsapp che hanno amplificato notizie e fatti senza real fondamento. In ogni caso i carabinieri garantiscono che ci saranno ulteriori controlli sui cosiddetti venditori porta a porta, che comunque svolgono un lavoro dignitoso e degno di rispetto.